Buon pomeriggio e bentornati in redazione. 69 arresti, 9 mesi e quasi 300 indagati. Succede a Palermo, dove le forze dell'ordine hanno sgominato gruppi criminali che tuffavano le assicurazioni, organizzando finti incidenti stradali, ma con veri feriti. Assoldati in cambio di qualche centinaia di euro e disposti a farsi fratturare le ossa. Ha dell'inverosimile quanto è accaduto, ma per saperne di più vi invito a visitare il sito www.lanotline.it Vi ricordo la nostra mail, redazione.lanotte.gmail.com Per ora è tutto, vi auguro buona serata e vi aspetto domani in redazione. Grazie!